Ben ritrovati con informazione di RTC Quartarete. Arriva la replica del Ruggi in merito allo spostamento del personale medico dall'ospedale di Cava dei Tirreni al Daprocida di Salerno. I ricoveri in rianimazione sono stati sospesi per curare il Covid. Tramite una nota stampa, l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno è intervenuta sulla sospensione temporanea dei ricoveri presso il reparto di rianimazione al Santa Maria incoronata dell'Ulmo di Cava dei Tirreni. Una replica, dopo il malcontento generale, espresso pubblicamente anche dai sindacati e dalle associazioni del territorio cavese, scaturito dallo spostamento del personale medico dal presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni al Covid Hospital Daprocida di Salerno. Nella missiva, la direzione del Ruggi ha fatto chiarezza sulle iniziative intraprese nelle ultime settimane, dichiarando che la sospensione temporanea dei ricoveri presso i reparti di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero cavese si è resa necessaria per garantire l'assistenza dei pazienti Covid positivi provenienti dall'intero territorio provinciale, compresa la popolazione cavese, che risulta particolarmente coinvolta dalla quarta ondata della pandemia. Per contrastare il coronavirus, tutte le unità operativi aziendali, direttamente o indirettamente, sono state coinvolte. Inoltre, la direzione dichiara che presso l'ospedale cavese saranno garantite le attività di pronto soccorso, comprese le urgenze chirurgiche, in quanto è attiva presso il nosocomio metelliano la guardia anestesiologica 24 ore su 24, nonché le attività di area medica, cardiologiche, dermatologiche, pediatriche, di terapia intensiva coronarica e di medicina interna. Continuerà inoltre ad essere attiva la chirurgia ortopedica, con funzionalità della sala operatoria per almeno due giorni a settimana. Resta invariata la programmazione di adeguamento strutturale e tecnologico dell'intero presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni, che prevede con il supporto della regione Campania interventi di manutenzione straordinaria del pronto soccorso, con inizio dei lavori entro la fine del mese di gennaio. Ed intanto, presso il Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, martedì 11 gennaio alle ore 17, si terrà la settima Commissione Consiliare Sanità e Servizi Sociali, convocata dalla Presidente Paola Landi. Da venerdì 7 gennaio i tamponi molecolari presso il drive-in dell'USCA dell'area mercatale di Cava dei Tirreni si eseguiranno esclusivamente a persone convocate e con l'esibizione della richiesta scritta del medico di famiglia. Ed intanto, domani 6 gennaio, il drive-in resterà chiuso. Anche nella città di Cava dei Tirreni continua la corsa ai tamponi a causa del forte aumento dei contagi, cresciuto drasticamente durante le festività natalizie. Preso d'assalto, il drive-in dell'USCA dell'area mercatale di Cava dei Tirreni e per questo motivo, da venerdì 7 gennaio, per ragioni di ordine pubblico e tutela della salute, i tamponi molecolari saranno effettuati dal Servizio dell'Unità Speciale dell'Asle di Salerno, presso l'area mercatale di via Palatucci, esclusivamente a persone convocate attraverso la piattaforma regionale e con previa esibizione della richiesta scritta del medico di famiglia. Dunque, l'amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di non recarsi presso il drive-in dell'USCA di propria iniziativa. Ed intanto, sempre l'amministrazione comunale fa sapere che domani, giovedì 6 gennaio 2022, il drive-in sarà chiuso per l'intera giornata per consentire al personale medico ed infermieristico di provvedere all'effettuazione dei tamponi domiciliari alle persone che sono in attesa. Non si placano gli animi all'interno del Partito Democratico all'indomani della decisione del sindaco Vincenzo Servali di lasciare il PD. Ascoltiamo ora il commento del capogruppo consigliare del Partito Democratico, Luca Narbone. Beh, sicuramente una scelta inaspettata e ahimè non condivisa da parte del sindaco Servali, che però ovviamente è libero di prendere tutte le scelte di carattere politico che meglio ritiene. Noi come Partito Democratico continueremo indipendentemente da quelle che sono le scelte prese dal sindaco Servali a portare avanti un'azione amministrativa seria e con responsabilità. Abbiamo stretto nel 2015 un impegno con la città di Cava dei Tirreni, l'abbiamo rinnovato nel 2020 e non possono essere questi cambi di scena politica che possono destabilizzare la città di Cava dei Tirreni. Il gruppo consigliare è unito, è coeso, la stessa cosa per quanto riguarda gli assessori. Andremo avanti solo ed esclusivamente per il bene di Cava dei Tirreni. In merito alla questione del nostro nosocomio è ovviamente da stigmatizzare quella che è stata la decisione presa da parte del direttore generale del Ruggi, il dottor Damato, cercando di prendere una decisione che inevitabilmente ha mortificato la città di Cava dei Tirreni. Comprendiamo ovviamente le motivazioni perché viviamo una crisi pandemica senza precedenti, i casi sono in netto aumento, c'è forte preoccupazione che ovviamente il Partito Democratico percepisce benissimo. Però è una scelta che per l'ennesima volta subiamo, una scelta che purtroppo non c'è stata condivisione con la parte politica e che ovviamente risulta difficile da digerire. E dopo un inizio anno caratterizzato da scossoni politici, si torna a discutere anche delle vicende amministrative a Cava dei Tirreni ed in particolare delle difficoltà che attanaiono il bilancio comunale. Si fa sempre più concreto l'avvio del piano di riequilibrio finanziario e la fratellanza chiede l'apertura di un tavolo di confronto. La convocazione della conferenza dei capigruppo per poi costituire un tavolo di concertazione per avviare le attività di programmazione del piano di riequilibrio finanziario del comune di Cava dei Tirreni. E' questa la proposta avanzata dal movimento politico La Fratellanza in una missiva indirizzata al sindaco Vincenzo Servalli, al presidente del Consiglio Comunale, al segretario comunale e al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENTE. L'amministrazione Servalli, si legge nella lettera, versi in un periodo di estrema tensione finanziaria e di difficoltà nel proseguimento della gestione del comune, una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al distesto che potrebbe dar luogo al procedimento del cosiddetto dissesto guidato. Secondo la Fratellanza è necessario privilegiare la gestione di iniziative che mirano al risanamento dell'ENTE e quindi di porre in essere una sorta di concordato con cui si cerca di supervisionare la gestione del comune al fine di garantire i cittadini attraverso il proseguimento dell'attività di erogazione dei servizi istituzionali e i soggetti terzi economicamente coinvolti in rapporti con l'ENTE. Un procedimento questo contemplato anche dal testo unico degli enti locali e che prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario plurianale per gli enti nei quali si uscissono squilibri strutturali in grado di provocare il distesto finanziario. Qualora l'amministrazione intenda percorrere questa strada, come ha fatto intendere ultimamente in maniera non tanto velata anche il sindaco Vincenzo Servalli, il Consiglio Comunale dovrà adottare la delibera di ricorso alla procedura e nel termine perentoro di 60 giorni dalla data di esecutività si dovrà procedere ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriannale della durata massima di 20 anni, compreso quello in corso corredato dal parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario. E tenendo conto che l'adesione del piano di riequilibrio è un impegno che va oltre il mandato dell'attuale Consigliatura e impegna anche le future amministrazioni che si susseguiranno nell'arco dei prossimi 10-15 anni, il Movimento Politico della Fratellanza intende aprire un tavolo di confronto con tutti i consiglieri, con l'obiettivo di stilare un efficiente piano di riequilibrio finanziario pluriannale per mirare alla tenuta dei conti. A quanto pare, già nelle prossime ore il presidente del parlamentino cittadino Adolfo Salsano dovrebbe convocare una conferenza dei capigruppo, con all'ordine del giorno una serie di argomenti, tra i quali ci sarebbe anche il piano di riequilibrio. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno nell'ambito di una serie di attività volte a contrastare l'abuso di bevande alcoliche da parte di minorenni nei giorni scorsi ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche. All'esito del servizio svolto sono stati controllati complessivamente 122 esercizi pubblici ed elevate tre sanzioni per un totale di circa 1000 euro. E all'ospedale Ruggi di Salerno una donna incinta viene operata d'urgenza per un infarto e poi partorisce. Sia lei che la bambina stanno bene. Colpita da un infarto ormai al nono mese di gravidanza con la nascita della bambina quasi vicina è arrivata all'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno che oggi annuncia il lieto fine con un bel fiocco rosa. Grazie ad una rete tra reparti ad un team multidisciplinare per condividere il percorso più opportuno i medici hanno fatto nascere la piccola con un parto cesario dopo aver trattato la mamma. Adesso entrambe stanno bene. Era quasi alla trentaseesima settimana di gravidanza la giovane mamma albanese che dopo essere stata operata al cuore in seguito ad un grave infarto ha partorito comunque la sua bambina di 2,430 kg. E' il miracolo dell'anno 2022 all'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona di Salerno che oggi annuncia questa storia incredibile dal lieto fine che ha visto una donna combattiva affrontare una dura prova prima di mettere al mondo la sua nona figlia. La signora in questione alla sua sedicesima gravidanza con nove figli nati e sette aborti subiti è arrivata in ospedale in condizioni critiche aveva un infarto cardiaco in corso ed era molto sofferente. E' stata sottoposta quindi ad un intervento particolarmente complesso effettuato dalla dottoressa Adele Pierri della cardiologia interventistica diretta dal dottor Cesare Baldi la quale è riuscita abilmente e con successo ad aspirare un grosso trombo presente in un'arteria principale per quanto attiene la vascularizzazione cardiaca. La paziente in seguito è stata stabilizzata dal punto di vista cardiologico e trasferita nel reparto di gravidanze a rischio diretto dal dottore Mario Polichetti il quale insieme al dottor Francesco Marino direttore dell'ostretrice ginecologia ospedaliera ha seguito alla partoriente un intervento di taglio cesario per consentire la nascita della sua bambina. Mamma e figlia stanno bene testimoni entrambe che la collaborazione repentina tra medici e la professionalità di ognuno può salvare molte vite. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Sabato presso il comune di Cava dei Tirreni Ennio Adinolfi riceverà il discobolo d'oro al merito del centro sportivo italiano. Ennio Adinolfi, dirigente sportivo e allenatore della società sportiva Ennio Onofrio riceverà dal centro sportivo italiano il discobolo d'oro al merito. Si tratta di un premio nazionale che viene conferito a un dirigente sportivo che si è particolarmente distinto nella sua carriera. Adinolfi è premiato per essere riuscito partendo dal popoloso rione Sala di Cava dei Tirreni a mettere insieme ragazzi che avevano voglia di fare sport iniziando prima con le attività giovanili fino ad arrivare alla formazione di altre categorie partecipando al torneo CSI di calcio Città di Cava dove il club ha vinto diverse edizioni. Adinolfi aveva cominciato la propria attività sportiva per hobby nel 1970 e l'aveva proseguita per un ventennio. Tra i giovani che sono passati per la società Ennio Onofrio per combinazione c'è anche l'attuale sindaco di Cava Vincenzo Servalli. La premiazione di Adinolfi avverrà sabato mattina presso il Salone d'Onore del Comune di Cava dei Tirreni con inizio alle ore 10 alla presenza di varie autorità politiche e sportive. E questa era l'ultima notizia di oggi grazie per averci seguito e buona giornata.